Ora andiamo a vedere alcune cose Anzi telefono che mi hanno scritto sicuro Ragazzi Purtroppo Abbiamo perso Ragazzi The Ast non sarà disponibile Le prossime due partite Penso siamo fuori Non sarà disponibile ragazzi Invece sì Invece sarà disponibile Volevo farvi un po' tiltare signori C'è The Ast Volevo farvi tiltare un secondo Io trollo Mi trollate tutto il giorno Mandate a cagare Mandate a fare il culo Mi trollate tutti i giorni Mandate a cagare Eh figlio di puttana io Mandate a fare il culo Eh pezzo di merda Mi trollate tutti i giorni Mi trollate Mi trollate tutti i giorni Eh pagliaccio io Pagliaccio io Eh bravissimi Sono un clown Finalmente Giustamente mi insulti Talento recitativo Signori quanto? Zero Plane Unshout play in 10 minuti Se win we secure a top spot for the split Come back Come check us out And see if we can beat the bridge 94 To extend our win of 3 to 6 Il coce di Cyberground Fanatic Oh wait You are from Canada A free win for us Buddies You know what they say They don't know how to coach a team in Canada That's what they say Ha coachato i fanatic Questo di cazzo è Ah quella ha fatto fanatic R.I. Chi sono gli R.I.? Porca puttana Chi sono? Ah i Royal Yauf in Turchia Ok sono forti Questi qua hanno vinto in Turchia Mi sembra due split Complimenti per il decollo della carriera Fanatic Royal Yauf Outplay GG Esport Cyberground Gaming Penso sia comunque bravo come E si è bravo ragazzi È bravo è bravo è bravo Se questo avete in comune Te e Deidara Entrambi sono stati separati Sul canale di Camera Caffè Eh ragazzi Canale Camera Caffè su Twitch è eroicità pura Ragazzi Ragazzi Partita Se perdiamo Signori Signori Se perdiamo Siamo obbligati a vincere domani O siamo fuori Se vinciamo Possiamo giocare Siamo ovviamente top 4 Quindi playoff 100% E Ce la giochiamo domani Per il secondo posto Ripeto I playoff saranno Primo contro secondo Chi vince in finale Chi perde contro chi vince Tra quarto e terzo Fondamentale arrivare secondo Se arrivi secondo Sei in semifinale Praticamente ok Molto bene Ma spoileratemi ragazzi Per favore Se dicono Quando fanno i cosi Dai I predict Su che team bettano Arrivo subito Anzi 2-3 minuti Pisce Trovo il blocno Eccomi dottori Eccomi Scusate Eccomi dottori Ho fatto entrare il gatto Che ogni tanto litiga Stiamo parlando con lui Certo Ok Che hanno predictato per noi ragazzi Che hanno predictato Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci siamo Scontro 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 Primi Primi in classifica Al momento Non ho l'audio Non so Cos'è Non ho l'audio Che stanno dicendo Mi hanno dato un foglietto Mi hanno dato un foglietto Mi hanno dato un foglietto Lo sto guardando Sì sì Ho lo cannone Un foglietto Perfetto Perfetto Grazie 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 Ragazzi Grazie Grazie Ringrazio Ringrazio PG Esport Per il foglietto Grazie mille dottori Grazie Graziella Grazie al cazzo Siamo pronti Signori Nati pronti Naturalmente pronti E tu da carne Volga di dare Non per gli OP Vaffanculo Vaffanculo Stanno gufando Al contrario Fermi Ho capito Vogliono darci una mano Signori E questo è quello Che stanno facendo In realtà Tifano per noi Alziamoci Ricordiamo Che non possiamo dire un cazzo Durante la draft Bene Eh ancora S'ha alzato Non so ragazzi Non so Non so ancora Dove vogliamo andare a parare Se una banda Blue side Mi sembra Poco convincente Però va bene così Hanno betta Ancora Ancora Hanno betta Non me ne frega niente S'hanno scommesso il CDG Ehi ehi Se non capite un cazzo di lì Che non dite niente Molto bene Signori Benissimo Lilia ban Carino Questo è un bene Questo è un bene Sto ban è un bene ragazzi Dico solo questo Sto ban è un bene La lista Ok si T'ha un calista player L'ox è ok con Bukong Ok con sta roba qua Gnar ragazzi Hanno tanta priorità Con Gnar contro di noi Perché sta in boss È un bravo Gnar player Perché non gioca Nient'altro Giusto? Bene Elif è bravo con Gnar L'altra volta Abbiamo preso Camille Stavolta no ragazzi Ok L'ultima volta Che ci hanno blindato Gnar Ari blind Per The Ast Oro Mi piace il matchup Non credo sia Non è Silas Altre parti ragazzi Prima volta che giocano Che giocano Zeri Questo ragazzi Silas Sapo No non giocano Silas Sapo Ragazzi Silas tecnicamente Contro Ari Non è quasi buono Ok? Cioè non è buono È ok Il punto forte di Silas qua È che mi va a rubare Anche l'ultima di Orn Che è carina no? Ok Un pick un po' più aggressivo Per l'Ingar stavolta Finalmente l'Indoor Può scartarsi Giusto? E far vedere il cioccolatino Ripieno di Diamante No diamante no Perché altrimenti Perdiamo di Grandmaster puro Condente al 100% Broom può essere Un buon pick Contro di noi Un bel pick per loro Trandola anche Era un buon pick Bravo Sappiamo Ploxy Broom Ban Codo all'infinito Hopi Io gli spacco la faccia Io vado in È greco Sì sì che è greco Oliver Jungle Stenamente è un buon pick Però per farlo Workare bene Devi essere Angry Panda Insomma avete capito? Molto 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 bene Dottori Molto 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 bene Andiamo a chiudere il cerchio Stavolta ragazzi E lo farò E lo farò Signori Facevo la sopracciglia Già la prima E lo farò Dottori Fino A fine Torneo Darò Zero Meno di zero Meno di zero Info Che sia chiaro Meno di zero Meno di zero Bene Abbiamo uno Gnar Voliver Silas Quindi Low DPS Però Col tempo Ne fanno Terry Stessa cosa Nautilus Ok Contro Horn Poppy Che è forte Contro Tre Quinti Di sta roba qua Disingaggia nel caso Arriva Gnar E Voliver Quindi Tecnicamente è un buon pick Ari Che è broken champ Del meta Carino contro Silas Difficeria da far Workare Contra Sarva qua Ma la blind pick Anche nel Sicheli Sì E con le nove Lì Quindi è giusto Tristan ragazzi Qui è un pick Che vuole L'Ingar Contro Zeri Provato Più volte Ci sta È confident Ragazzi È molto confident Quindi buono Ho visto giocato Anche altra roba Ma lo sapete Benissimo Che voi Contro Zeri Però ragazzi Si va anche a confidence Del player Chiaro Questo è il game Che deciderà Se gli OP Arrivano in classifica Secondi o terzi Perché vincendo A sto game Siamo matematicamente Secondi o terzi Se vinciamo anche domani Secondi Naturalmente Oppure Se gli OP Riscano effettivamente Di non arrivare In playoff Andando a perdere Anche domani Ma non credo ragazzi Perderemo contro i Samson Sinceramente Dopo che l'altra settimana Abbiamo vinto al minuto 5 Bene Non si sa mai Sono bo' uno Non si sa mai Magari Platy Esce l'asso dalla manica Direi ragazzi Che è il momento di Lotus Siete d'accordo con me Che è arrivato Il momento di Lotus Di far vedere un qualcosa Siete d'accordo ragazzi Attenzione Deast Fai attenzione fratello Bravissimo Guarda Deast era già lì Non è come quelli Solo più Che stanno su Instagram Bravo Deast Bravissimo Un attimo che non mi metto più Sopra i team Perché l'ultima volta Abbiamo preso il cazzo Mi metto sopra Anzi sopra Apache Qua Sono troppo piccolo Quelli di sì Qua O do fastidio No non do fastidio No non perde il cazzo Non mi interessa niente Vedere gli item Cioè ci sono lì in mezzo Per spicca di Per spicca di Di Sylas Ok Prima volta Allora aveva già giocato a 0 Perché prima mi ha detto Che non aveva mai giocato 4-0 con altri O Slacky Buono 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 Eccolo lì ragazzi Eccolo lì Lotus che vi dicevo prima Naturalmente ragazzi Poppy Ci mancherebbe altro Signori Poppy di Lotus Poppy di Lotus Ci mancherebbe altro Un pic che è Situazionalissimo Non copiate a casa Non copiate a casa Il pic di Lotus Per favore Non fatelo Non puoi dire OP Senza Poppy Certo Chiaro Guardate Guardate Ploxy Quella sta facendo Però lo leggiamo Immediatamente Lo stiamo già andando a prendere Guardate che roba Vediamo Vai vai De Ast De Ast De Ast Prima se la comunicazione Vabbè è all'1 Che deve fare Vabbè abbiamo protetto Abbiamo protetto Era l'1 Era l'1 Abbiamo protetto E Bot Non abbiamo perso niente Quindi qua Ploxy perde leggermente Sul clear Ploxy perde leggermente Sul clear Molto bene Sappiamo che Poppy Comunque è lenta Come clear Ok bene o male Alla QK è broken Ma Irly è un po' Lentina Ecco diciamo così Lecic Cerca il movimento Perché siamo andati a difendere il blu Speriamo di non vedere un flash A parte di De Ast Tiene il flash De Ast Dove è stata Sì è stata una buona idea De Ast Tiene il flash Ma qua stretto a beccare Angry Panda Cerca il pick Non lo trova Bello il roaming di Nautilus De Ast Sopravvive Attenzione al Lotus Vediamo qua cosa succede Q di Lotus Lecic Flash out Molto bene Quindi sappiamo Oddio Lotus Fermi tutti Fermi tutti Il Lotus Fermi Applauso a Lotus Applauso a Lotus Ragazzi Applausissimo a Lotus Angry Panda Cerca il flash Non lo trova Questo voglio vedere Da questo ragazzo Ingiustamente Trattato male Forse giustamente Giustamente trattato male Ma che si sta ragazzi Redimando Piano piano Bravo Lotus Solo kill Finalmente Questo voglio vedere Ragazzi Questa partita Dobbiamo veramente Portarla a casa Bravo Lotus Un po' di counter jungle Rilasciare l'ultimo Raptor Che si perde Lo spawn timing Avanti Lingard Di farm Qua serve La migliore Performance Del torneo Signori La migliore Performance Serve Asterisco Per Lotus Per la solo kill Loxy va ovviamente A resettare Lo spawn timing Nel campo Sten Sten Deve reggere Topside E i biscotti Sten Hai tutto da utilizzare Voglio ricordarti Pushano i GGG Sta tranquillissimo Voli per botside Che sta tenendo un biscottino Mangia ne uno Porca puttana di biscotto Quelli for fun Per il meme Itemino Ruby Cristallino Per Sten 1v1 di The Ast Back al charm Complesso andare A killare 1v1 Naturalmente Quando blind pick Picky mid lane Mario un blind pick Sì un blind pick Ari ragazzi Lo sapete Raio bot lane Molto interessante 10 kill di vantaggio Che in realtà sono 3 Attenzione Angry Panda Potrebbe essere in difficoltà Ovviamente in quel caso In caso di hook Di lexic Ragazzi Angry Panda Poteva tornare Con la e Non carlo in volo Poi ovviamente Hai lexic Senza flash Loxy cerca Il movimento in top Sten è abbastanza low Non c'è risposta Al momento Vediamo se Sten Prova a chiudere Mezzo oggetto Lo chiude Qui però Arriva anche Mega Gnar ragazzi E qui Mi sa che iniziamo a salutare Sten E qui signori Sale anche Sale anche Ari Da quel che ho visto Ci prova Ci prova Eh Faccia anche lui Dottore Ci prova Ci prova Ragazzi Lo Sten Ci ha provato Non era semplice Assolutamente Non era semplice Difendersi da quella roba lì Al TP La kill purtroppo Andragnar Vediamo se riusciamo a rispondere Con un drago TP in top Di horn Primo drago Molto interessante Brava Hungry Panda A dare levare lo shield Dal crab di merda Un drago Early game Al minuto 6 È sempre forte Ragazzi È sempre forte Poi quel drago lì È quello che ti dà le stats Quelle di merda Giusto mi sembra Che stats dà il drago Quello lì signori Sono buone È quello che dà Attack Speed Ability Ast È carino no? Early game Non è semplice Sto movimento Non è semplice Come gank È avanti di farm Nonostante il drago Bravo Lotus Questo è un bel game Sten Toplin Clamoroso Solamente 5 creep indietro Nonostante il dive Lingar Avanti di creep The Ast Come cazzo è possibile Che sia avanti in farm Nonostante il gang Di natri Early game Non ne ho idea Al momento Game Alla pari Ragazzi Completamente alla pari Contate che Silas Ha anche il TP Ability The Ast Basta Con quelle mod di merda Che tra poco The Ast Ti smarfa On the face On the face Ti smarfa Doppio disengage Per gnare Volibear Non è brutto però Andiamo a vedere Loxy Follow a bot Facciamo attenzione Ragazzi Spero non blade up La dentro 1v1 1 in tosse Ignar Altato Stene full vita Eh Non sia stata La cosa più bella Che abbia mai visto In vita mia Però Da un or Nintendo The Ast Però L'1v1 Oddio Oddio Li voglio bene Li voglio bene A Lotus Ragazzi Voglio bene A Lotus Doppio asterisco Doppio asterisco Per Lotus Dottori Doppio asterisco Per Lotus Fermi Due gank straordinari 60 creep Game perfetto Al momento di Lotus Che forse cerca il pick Anche su Ploxy Ma non è semplice Exflash Stun al muro Charm di Ari Arriva Angry Panda Lo prende Sopravvive Flashando out Cerca Luke Lecci Che Panda Deve scappare Perché potrebbe Chiuderlo Gnar Gnar sta arrivando Gnar Becca Perfetto Flash di Volibear Molto bravi Qui ragazzi Sto game È totalmente Lotus Al momento Nulla da dire Vediamo Se nel momento Del bisogno Porta gli OP Confermati ai playoff A giocarsela Per il secondo posto Che cazzo fate Un crab Vero Pensavo Startassero L'herald Stavo scendendo Col fucile Stavo Panda Che giro fai Bene Questo però Potrebbe essere Herald Per l'avversario Perché Angry Panda Ha dato l'info Che non può Non può essere presente Contando la giocata Mid Ci può stare Deve stare Molto attento Stan Ma non può Evitarlo Signori Stan Purtroppo Qui Stan Purtroppo Qui Signori Per l'ennesima Volta Ingiustamente Naturalmente Verrà probabilmente Ghillato Peccato Peccato Bella rotation A parte di CGG Vediamo Se ci sarà Una rotation A parte di TheAst Verso bot Per andare A dai vari zeri Dopo Quella wave Crashata Vediamo Se arriverà Lingard Dominio Nell'1v1 20 creeps Sopra Bravo Lingard Ricordo 17 anni Questo ragazzo 2004 Al momento Sicuramente Non il migliore Ad carry Dello split Ma neanche Lontanamente Però un talento Veramente alto Signori Vedrete nei prossimi Anni Questo ragazzo Sicuramente In qualche Major League Ricordiamo Ragazzi Che i CGG Sono avanti Un K Gold Quasi Però Hanno anche L'Herald Da utilizzare Forse lo utilizzeranno Per prendere Questa torre Oppure La utilizzeranno Per avere Praio Al drago E andare a contestarlo Ok Fortunatamente Lotto Si è andato A dare Una kill Signori A The Ast Bella Bella Lì Il blocco Di Stan Forse avrei provato Un ultio Allora CGG Traderanno Signori Secondo drago Per torre top Va bene Vi prego Non il cloud Drake Vi prego Vi prego Riot Games Non rompetemi Il cazzo Anche in competitivo Non il cloud Drake Godo Godo All'infinito Stan Obbligato Non è colpa di Stan Quello che sta succedendo In top Signori Stanno giocando Top Semplicemente Cerca l'1v1 Qui The Ast No era semplicemente Un bait Per farsi ingaggiare Perché c'era Poppy pronta O muoversi Boh The Ast Perché ha priorità Ovviamente è wardato Purtroppo Penare al TP Non ce l'ha Qua si molla e basta Diamo un po' di Tower It Diamo un'altra placchetta The Ast In difficoltà ragazzi Non so neanche se Si ha l'ulti up Sta baitando The Ast ragazzi Era confident Di doggiare quella spell Era al mid Da parte di Volibear Potrebbe essere buttato Vediamo Non prenderanno mai niente Con questa cosa La placca ha preso Molto bene Sto movimento qui Ragazzi E il red Anche difeso Però siamo indietro Un K e mezzo Però ovviamente Abbiamo horn Quindi scaliamo Allora Abbiamo signori Guardiamo Due draghi E abbiamo Givappato Il drago Abbiamo Givappato Escolato Abbiamo givappato Gold Per prendere Questi draghi Questi draghi Ci faranno Recuperare i gold Più avanti Tranquilli Perché loro Saranno obbligati A contestarli E noi Possiamo prendere Altri obiettivi Quindi Quel K e 8 K e 5 Che vedete In realtà Al massimo È 700 gold 600 Quel cazzo Ok Tecnicamente Non sta andando male Perché abbiamo Un lingar Signori 130 minion 20 creeps Sopra Al minuto 13 Mi spiace Un po' Per horn Perché poteva Reggere Magari No È stato Daivato Due volte Quasi tre Signori Non poteva fare niente Eh Stai niente 3k Ma non 1v1 Ragazzi Carretto preso Premi W 6 Lacti Vediamo Se ci arrivano Bello Bello Lotus Bello Bello Lotus Bello Peccato Ragazzi Peccato Che la kill Non sia andata Nelle mani Di Lingard Questo è un peccato Ma l'otus C'è ragazzi Perché questa kill Probabilmente ci darà Quasi una torre bot Dimmi che riesci a prenderti Una placca Prima dei 14 minuti Ce la fa Ce la fa No Non ce la Ma adesso vediamo Facchetta Benissimo Difende Ploxy La torre bot Nessun problema Ragazzi Non serve A prendere L'importante È cambeccare Leggermente i gol Ingaggia Qua 6 1v1 Vediamo Deastre C'era qualcosa Quasi in difficoltà Ma ripeto Ari blind Ragazzi Quindi è giusto Che il matchup Non lo vinca Specialmente broken In generale Nel game Ovviamente 1v1 Non può vincere Un pick blind Se vince Perché è 20.000 Volte più forte Drago Qui Deastre Recupera la vita Charm Vediamo se proverà Un back Drago Drago Che vogliamo Certo Ricordiamo Che hanno Volibear Gnar Engager Buoni Abbiamo doppio disengage Naturalmente Hanno anche L'engage Di Nautilus Certamente Mi puoi levare Il primo attacco Charlie Pepe Grazie Molto gentile Qui mi sa che forzano La mid Signori Game Molto Molto Close Sono avanti Di strutture Senza quelle strutture Saremo probabilmente pari Qua ragazzi Penso sia un fakeback Per prendere la torre Vediamo se è così Sto orando bot Le minose Se beccano Sì hanno beccato Le torre Questa è torre bot Quella torre bot Ci dovrebbe dare La pressione giusta Per arrivare al drago Purtroppo Non abbiamo la mid Quindi vale la stessa cosa La mid è la più fondamentale Actually Quindi al drago Tecnicamente Avranno loro la fraio Cammineranno loro Abbiamo un linga Ragazzi 30 creep avanti Potremmo tradare Potremmo tradare questo drago Per un herald E torre Potrebbe avere più senso Ragazzi Ovviamente non credo Gli OP abbiano così tanto macro Da fare una call del genere Perché ovviamente È win condition Vediamo Spero 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 Di sì Sinceramente Vediamo se vogliono contestarlo Io lascerei per herald Più torre Vediamo se è fattibile Abbiamo il tp di stan Sì abbiamo il tp di stan Ragazzi Ce l'abbiamo Gli OP vogliono a quanto pare Contestare Forse Deas Fuori posizione Vediamo No Vediamo se Plox Si viene preso Non viene preso Lotus 2-0 Con lighten chiuso Ma anche Plox Lighten chiuso Naturalmente Vediamo se Agripanda Viene noccato da Leggic Non preme il grilletto Non lo preme Non lo preme Non lo preme Ci sarà un fight Molto interessante Fight che io sinceramente Non vorrei Ma va bene così Accetto questo macro Siamo a livello italiano Vediamo il flank di stan Stan deve stare attento Perché qui Può essere preso Salas si può rubare l'ulti Preso Salas fuori posizione Vediamo se viene sciolto Bellissima l'ulti di stan Agripanda Al momento non sta fightando Però molto male Flank di Deas Che prende Salas Molto bene Tava smezzato da Deast Questo ragazzi Mi sa che è un nulla di fatto Dobbiamo beccare Perché Gnar purtroppo Sta diventando omega Vediamo se Elif La smart fa col flash Lo può fare Dobbiamo stare molto attenti Qui ragazzi Dobbiamo stare molto attenti Lotus ingazza su Gnar Questa è una cazzata Clamorosa Salamelo Bloxy In back door So Lingard Che riesce ad autopilarsi Clamorosamente Uno per uno Qua Lingard La smart fa Bello look di Lechik Qua dobbiamo stare molto attenti Ragazzi Dobbiamo ringraziare Lingard Perché sta roba qua Era flip totalmente Non hanno il jungler Per fare questa cosa Abbiamo il TP di Horn Angri Devi ballare Angri Devi ballare TP di Horn Dai che questo è il terzo drago Dai che non hanno voli Per signori Abbiamo stan full vita Qui ragazzi Un applauso per favore A Lingard Fatelo 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 Eh troppo tardi adesso No Arriva il TP avversario Eh ora dovete lasciare No Sto macro qua È veramente bad Basta Molla No 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 Eh buona fortuna Gnar dietro 4v5 situation La sorella Alt out Lingard Angri Pan di difficoltà Muore anche lui Signori Qua non abbiamo il concetto Veramente di trade Qua ragazzi Non abbiamo veramente Il concetto Di trade È un continuo errore Ragazzi Anche gli scorsi game Erano così Facciamo le robe ragazzi Ma non tradiamo mai Per come beccare il game Non me ne frega Un cazzo del terzo drago Non abbiamo Non siamo in spike Prendi quella merda di Harald E aumenta i gol del team Apri la mappa E lascia il drago Il drago vale 0 gold Le torri valgono gold Qua è un errore clamoroso Ancora una volta Ovviamente lo accetto Perché siamo in Italia Tutti e due i team Sono abbastanza bad Del loro macro del team Vabbè c'è gente Con 0 macro In lì sì Che cazzo te ne frega Saranno 8 i team Col macro al mondo Probabilmente Ah sta call qua Era totalmente sbagliata Ragazzi Era al dintu torre mid Vaffanculo al drago Cioè recuperi i gold E fai ti dopo Quando arrivi in spike Con horn Che dà gli oggetti No e tristana Che sta giocando benissimo Ai gold Spica Che fa roba Non aveva veramente senso Contestare sto drago Qui ragazzi Sighi vappa Un herald Questo herald Andrà ad aiutare molto Il team avversario Lotus e l'ingar Stanno giocando molto 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 bene Lo torri sto game Lotus è andato a sognarsi Sì ragazzi Ma è quello che sta giocando meglio Il cazzo di vuoi dire a Lotus Stiamo indietro 2k Comunque ragazzi Non è perso il game Che fa Lotus con la ulti La vuole ultare Per prendere la torre A meno cooldown Vero se non fai partire L'ulti ripopi Giusto Io continuerei a scalare Qui ragazzi Continuerei a scalare Adesso è perso il game Grazie al cazzo Non puoi fightare Person fight 2 secondi prima Non è solo Q Che puoi fightare all'infinito Vediamo se riusciamo a forzare La mid Fortunatamente Riusciamo a forzare la mid A recuperare Un pochettino Di pressure sulla mappa Per fortuna Signori Per fortuna Six in Botlin Meccerà probabilmente Prendendo tre quarti di torre Vediamo se Stan Arriva in tempo Sta arrivando anche Volibear Purtroppo ragazzi Potrebbe rimorirci Stan Daivato Però sta De Ast Sta sentendo odore Signori di dive De Ast Sta followando Vediamo Ploxy non ci prova Perché ragazzi Non ha Non è in mino Abbiamo l'ulti di Stan Boss Però potrebbe esserci qualcosa di interessante Qui se preme il ghiletto Stan Vediamo se lo preme Non lo preme Io ci avrei provato Qui ragazzi Avrei provato l'ulti Su Sylas Al massimo lo facevo flashare Due K indietro ragazzi Nulla di che Nulla di che Sappiamo quanto valgono i gold Contro Orn ragazzi Ok Ovviamente Sfortunatamente Orn è indietro Quello si Però prima o poi ci arriva E abbiamo un De Ast Che a breve ha Rabadon Abbiamo Abbiamo un De Ast E abbiamo un Lingard Abbiamo un Lingard Che tra un item è in spike Ha quasi perfect farm Signori Non è assolutamente finito il game Bravo Lingard in top Non vogliamo fightare mid assolutamente Neanche morti La rotation in top invece la voglio Perché questa è una torre Ovviamente Stan Basta fare uno più uno Se facciamo la play top Fanno la play bot Bravo Stan Bravo Stan Qui ragazzi Meceranno probabilmente Qui Meceranno probabilmente Con due Stavamo startando il Nashor Guarda che Entravo 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 su uno dei miei Entravo Su uno degli OP Entravo a gamba tesa Qui sono due torri Per una Probabilmente Vediamo se Stan Riesce a fare mezzo miracolo Difendendo questo Questo asseguratore Ma è impossibile Ragazzi Sappiamo quanto danno fa Il fottuto Herald Eviterei Stan Magari il terzo Tower hit Dell'Herald Molto bene Drago Tra 50 secondi Angripanda Però fuori posizione Ma è solo uno stop Da parte di Plox Era un check Per vedere se qualcuno Era lì dentro Abbiamo Stem boss al 12 Ancora Stessa roba di prima Non ha senso Fightare adesso Quando siamo a poco Dallo spike di Ari A un item Dallo spike di Tristana E a un livello 2 Dallo spike di Orn Qui se contestiamo Questo drago E siamo dei falliti Ovviamente Noi contestiamo tutto Ragazzi Perché si contesta tutto Perché siamo così Perché siamo dei coglioni Check di Taba Al momento un po' sottotono Magari esce la pentachila adesso Cacapuzzolo Dammi l'energia Cacapuzzolo Te che sei smarf Startiamo il drago Flank di Gnar In arrivo Vi prego Fightate adesso Prima di venire chiusi E ammorsa la catena Invece andiamo per il drago Ulti via di Poppy Che ovviamente Con la call Di lasciare il drago Vediamo Quale sarà la call Volibert è out Potrebbe voltare in La prende Poppy Benissimo Il fight Buona fortuna a tutti Zonato Gnar Da Sten che si sacrifica Ulti di Di Angry Panda Su Gnar per uscire Questa roba qui Sarà disastro Parerei a dislingaggiare Io sinceramente È una win A aver preso quel drago La smarfa Tristana No non la smarfa Perché sopravvive con HP Questo qui ragazzi È solo da andare back Perché è disastro Vediamo se Sten si sacrifica Ragazzi The Ast prova a girare Sopravvive Six con HP C'hanno anche un po' di culo Questi però eh Oddio Oddio No 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 Ci muore Ma che cazzo ha fatto The Ast Ci muore Ma bravo The Ast ragazzi 2 per 1 3 per 1 Per Drago Ma questo ci apre Una win condition Tra 5 minuti 3 per 1 Per Drago Ma qua c'è la win condition Adesso vediamo Ricordo che l'altra volta Eravamo 8k sopra Abbiamo perso il game Che non ci sia ragazzi L'opposto Anzi lo spererei L'ingard un po' sfortunato Qua ragazzi Ha ultato via Gnar Che è sopravvissuto Con 1 di vita La call non era male ragazzi Ma poi bisognava disingaggiare Perché abbiamo usato un kit Per fare un obiettivo No Quindi non si poteva più fightare Ovviamente qua Andando back Poteva essere un 1 per 0 E Drago Che è la cosa più worth del mondo Guardate qua Elif Eh Nulla da dire qua ragazzi Lui poteva essere un 2 per 3 No 2 per 3 Drago E worth assolutamente Contando che è il terzo Qui The Aster Guarda che roba Vai in signori Prende la kiss Il 6 Riesce a prendere il charm Doggiando Taba Angripanda fuori posizione Qui signori Verrà sciolto Cancellato E tritato Sì Qui i CG Se sono bravi Vincono il game Perché vanno a bettare Il Nash 4v5 Pingano già il Nash Ragazzi Non ho idea di come Angripanda sia morto In quella situazione Stan A breve darà gli item Qui ragazzi Serve il miracolo Qui ragazzi Serve assolutamente Fare il miracolo Vediamo se Lotus È l'uomo dei miracoli Ha un champion Che può effettivamente Fare un qualcosa I CG Possono fightarlo Però Questo era 8k 7k Abbiamo la visione Non ce l'abbiamo più E tete Buttate Un qualcosa Buttate Buttato via plos Prendi Prendi Nautilus Focus a Nautilus Focus a Nautilus In guarda Nautilus Porca buttana Bravo Lotus Che Stan qua Si è sacrificato Il Nashor è salvo Lottori Stan Boss Si è sacrificato Portando via 4 Lingard Fallo per la Svedo Dove cazzo è De Lingard Che non mi ricordo più Nordico Fallo per il Nordic Fallo per il Nord Tornano ragazzi Verso il Nashor Non so quanto C'è la call giusta Ragazzi Questa è una call dubbiosa Che è 4v4 Puro Angripanda Presa Vogliono fightare Angripanda Penso ha shottato Cancellato Annientato Solo un pick Probabilmente Spero Ora però Sponerà l'Ax Quindi possono effettivamente Fightarlo 4v5 Di nuovo Disastro ragazzi Disastro Qui ragazzi Lotus Forse è l'unico Che può fare Effettivamente Il miracolo Vediamo Signori Forse è tutto Nelle mani di Lotus Qua Tutto nelle mani di Lotus Che purtroppo Non ha Non ha il flash Però c'è l'Ax Flash Non un ult out Nessuno È sotto visione No è quasi impossibile Questo Oddio Spiga di merda 50 HP Bel tentativo Qua Di Lotus Ragazzi De Ast Prende il pick Riesce a prendere un pick Su Gnar È shut down È sopravvissuto A 50 gold Entrambi i jungle Hanno trollato lo smite Anzi L'ha trollato nessuno Non ha smitato Ploxy 50 HP sul nascio Nulla da dire ragazzi Nulla da dire 75 HP Lì un po' di sfortuna Possiamo rivedere il replay Ma non andrei molto A rivederlo ragazzi Perché spona Spona il cazzo di Drago Andiamo a rivedere Quello che è successo ragazzi Ulti di Poppy Lo prova per buttare via qualcuno La spreca Prova anche Six Ma Poppy fortunatamente È fuori range Vediamo qua Per favore lo smite Vediamo Eh Che sfiga del cazzo qua 85 HP Fammi rivedere Charlie Peppe Per favore Perché qua c'è Il Drago In 20 secondi 6k di svantaggio Lottori Qua serve il miracolo Qua serve il miracolo Vediamo se verrà Se avverrà Oppure niente ragazzi Se fanno il Drago Il game è finito Che sia chiaro L'ultima win condition Rimasta Rubata Un ulti molto forte Due livelli sopra Six ten Elip sul flank Trova un gripanda Lingar si butta in Lingar ha semi trollato Il positioning Può Elipo diventare Mega Gnar Tirare di tutti Obbligato Sten a controingaggiare Flank di Six Bellissimo Questo è disastro Non può mai andare bene Sto fight Impossibile 5 per 0 Lingar sarà il prossimo a cadere Qui ragazzi è Sconfitta Astro meritata E qui ragazzi Perdiamo il game E anche meritatamente Qui ragazzi Fammi tornare No Spediamo che finisca Vole dei riscorsi Lotus ha giocato bene Forse un po' sottotono Angry Pound e Sten Sto game qua The Astro Alla fine non ha giocato male Non ha brillato Ma non è che devi brillare Ogni game Qua probabilmente Angry Pound e Sten Molto sottotono Che ho visto A livello degli altri game Sten è da un po' Che non lo vedo a livello Da inizio split E qui signori Questo game qua È semi disaster Angry Pound ci proverà Non è un kidia player Non è un kidia player Non è un kidia player Angry Pound Ci mancherebbe altro Qua Angry e Sten Andiamo a parlarci dopo Qui ragazzi Molto deluso Molto deluso ragazzi Perché ora domani Andiamo a rischiare grosso Qui domani Signori Signori Qua domani Andiamo a rischiare Veramente grosso Ma veramente tanto ragazzi Perché se perdiamo domani Non è che siamo fuori Ma siamo al tie break Non possiamo più arrivare Nelle prime due posizioni È confermato È confermato ragazzi A fine split Arriveremo probabilmente Quello che era sulla carta Il nostro team Era il team Che era terzo posto A quanto pare Arriveremo Spero Spero Arriveremo Entro Pre playoff Che poi c'è il tryhard Che è doppio Pre playoff Spero di arrivare Terzo quarto Che ovviamente È l'obiettivo minimo L'obiettivo minimo Di questo split E poi vediamo come andrà Call Questa roba qui È follemente stupido Questa roba qui È follemente stupido Questa roba Contestare Follemente stupido Yo Outplay Dario here in chat guys No la draft Non c'entra un cazzo Qui abbiamo Qui vincevamo il game Bastava aspettare È solo che non avevamo Non dovevamo fightare La draft La draft era ok Pungy non ha sbagliato un cazzo Qui la call è sbagliata Perché non hai champion Per fightare in questo momento Qua abbiamo perso per il macro Bravo Qua abbiamo perso per il macro Ragazzi Non fighti Quando non sei in spike di Orn Non sei in spike di Tristana E Aria ha un oggetto E non due Quando puoi fare E sei sotto di gold Quando puoi fare herald Ovviamente ragazzi Questo è il livello Che abbiamo in Italia Non puoi permetterti L'elissi macro Che abbiamo noi Ci mancherebbe altro Non puoi permetterti Il macro perfetto You didn't play bad guys This You need to understand this Because you You trolled us well In the past You can't Contest Objectives When you are not in spike On your champs Just fucking trade And get gold So you fight next Okay You have two drakes But you don't need the third Give them the third drake So he stay first You get the herald Plus two towers Or herald plus tower So you go ahead in gold Then you stall For five minutes For five minutes You get Tristana Three items You get Ari Two items And a half You get all levels And then You probably fight even better Maybe you lose anyway Of course You don't know this But TR was The worst call Was of course To contest this drake When you are not in spike This is kind of even easy I think to see Because I fucking I pretty said it Like two minutes earlier I think It was pretty Pretty bad to contest Let's say it like this Let's say it like this Because it was really Three herald Which they take And take two towers No? With the herald That's why They take two towers here Then the prior to contest Next things Instead with the herald You get the gold Of your towers You get two towers You lose one drake Which give no gold Of course You have You didn't waste Your win condition Because the win condition Is the comp itself Now you have Orn items You have the scaling With Tristana Blah 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 You have the double Disengaging Into the double engage Of Oliver Gnar It's pretty solid It's pretty solid I think I think Panji Did a good work Over here Was pretty Here was Kindersend macro I think I think Where did I say I think I said it Over here At 15 minutes Let me check I think I said it here To don't contest The third rig I think I said it here Don't contest The third rig Because there's no sense To contest It You can improve Your goals And get the spike On your champs I know It sounds Pretty high level Macro But I expect It But it's fine It's fine Guys It's fine Qui ragazzi Abbiamo un problema Grave Adesso Qua per domani Serve Aspetta Come qui Gioca di Samson Però poteva andare In modo diverso Anche questo CGG Vittoria meritata Vittoria meritata Nulla da dire Non ho tre anni Ragazzi Non abbiamo tre anni Ora della fine Sulla carta Il team dell'OP È il terzo team Quindi non mi interessa Un cazzo Naturalmente nel playoff Perdere fa male Quello che vuoi Si gioca per vincere Chiaro Ovviamente bisogna vedere Quello che è sulla carta Ora della fine Andiamo a vedere Un attimo la classifica Eccolo qua Allora signori Andiamo a vedere Quello che sarà Purtroppo Andiamo a vedere Quello che sarà Purtroppo Ragazzi Allora Samson Contro Axolot Questo game Deciderà una cosa Fondamentale Ragazzi Se gli Axolot Dovessero vincere Noi domani Siamo contro un team Già eliminato Ok Dovrebbe funzionare Così Mi sembra Perché gli atleta Poi naturalmente Vinceranno Penso contro i Cyber Che non gli importa Arrivare i primi o secondi Credo di sì Ragazzi Brutto farsi i ragionamenti Ma stasera Se ti fa Axolot Stasera se ti fa Axolot Ragazzi GG Vabbè Sto game qua Dura Spero non duri 40 minuti Sto game Con tutto il rispetto Per GG Sport and Fire Con tutto il rispetto No nessuno Gifta il game Nessuno Non puoi giftare game A counter ragazzi Counter contro Axolot E contro P Entrambi i team Devono vincere il game No nessuno gifta un cazzo Speriamo ragazzi Spero A me non frega un cazzo Batterei entrambi i team Perché sono dei clown Compreso il team di oggi Tuttavia signori Questo è quello che è Preferisco Tra i due team Probabilmente Nel caso In un caso ragazzi Stasera preferisco Veramente vincere contro Che vincano gli Axolot Perché poi abbiamo strada libera Nel caso peggiore Ascoltate Nel caso Dovessimo perdere Contro Vediamo Nel caso dovessimo perdere Ragazzi Contro Samsung domani Dovrebbe esserci Un tie break Giusto Perché loro vanno 8-6 Nel caso vincono anche oggi Loro vanno 8-6 E noi 8-6 Se perdiamo anche domani Giusto Gli atleta Gli atleta Non importa ragazzi Dici se vincono entrambi i game No ma non ci importa Degli atleta Anche se vincono entrambi A noi importa del quarto Del quinto Scusami del quinto A noi basta una win Per vincere ragazzi Cioè per arrivare top 4 Ci basta una win Non è bello ragionare così ragazzi Ma bisogna per forza A sto punto Signori Ora che siamo matematicamente fuori Dalla top 2 Vuol dire che ai playoff Matematicamente Giocheremo ragazzi A sto punto Contro il terzo Oppure contro Il quarto Se arriveremo terzi O contro il terzo Se arriveremo quarti Quindi dovremmo farci Tutta la ladder Contro il terzo Contro il secondo Oppure contro il quarto Poi contro il secondo E poi contro il primo Nel caso So che contro gli atleta Siamo 2-0 Quindi In un caso Di triple tie break In un caso Di triple tie break Signori Noi siamo primi Matematicamente Ok E siamo ai playoff Mi sembra funzioni così Perché se abbiamo Atleta 8-6 Abbiamo Samsung 8-6 Noi 8-6 Passiamo noi Perché abbiamo Samsung 1-1 contro atleta 1-1 contro i noi Ma noi abbiamo 2-0 Contro atleta Ok Quindi saremo Matematicamente ai playoff Eh ma gli atleta Devono giocare Contro i primi e i secondi Eh ragazzi È molto complesso È molto complesso Ragazzi È molto complesso Rinnovo i complimenti Ai GGG Naturalmente Oggi By Faramani Bassa è il team più forte Anche di macro Stesso vale per i Macchio Macchio atleta Ci importa Preferiamo Macchio Noi ragazzi Giusto I Macchio devono vincere Per avere il primo posto Per avere il seed migliore Quando vanno a scegliere Il blue side O red side Dai playoff Quindi i Macchio Devono vincere Se i Macchio vincono Rimangono 7-5 No ragazzi Siamo ai playoff Se perdono gli atleta Fermi signori Fermi Se gli atleta perdono oggi Noi siamo ai playoff Per forza Perché anche Cioè Se perdono domani Siamo ai playoff Se vincono domani Siamo ai playoff Perché per scontro diretto Per scontro diretto Siamo 2-0 Quindi non importa Chi vince Tra Ashlott e Samsung Oggi Noi siamo Tecnicamente Signori C'è qualcuno Che ha studiato Statistica Mi seguite un attimo Mi seguite un attimo Nel ragionamento Mi seguite un attimo Nel ragionamento Un attimo Concentrati Bene Mi serve per il playoff Bravi signori Se oggi gli atleta Perdono Rimangono Vanno 7-6 Noi siamo 8-5 Bene Nel caso Noi dovessimo Perdere domani E il caso peggiore In cui i Samsung Dovessero vincere Anche oggi Quindi ci vanno A pareggiare O nel caso In cui gli Axlott Vincono entrambi i game E ci vanno a pareggiare Noi matematicamente Saremmo ai playoff Perché Sia contro Axl Che contro Samsung Abbiamo fatto 1-1 Quindi chiunque Sia pari a noi Non siamo sotto Ma contro gli atleti Abbiamo fatto 2-0 Quindi matematicamente Siamo sopra E il tie break Sarebbe tra Atleta E Axlott O Atleta e Samsung Giusto? Dovrebbe funzionare così Contro diretto È la prima cosa Che va a contare Nel dubbio Ragazzi Nel dubbio A noi non frega un cazzo Ragazzi Nel dubbio No funziona così Gianni Funziona così Nel dubbio signori Nel dubbio A noi non frega un cazzo Perché ragazzi Noi vogliamo vincerle tutte Twitter di Monboi Togli tutti gli scenari Secondo ragazzi Che cazzo sono gli scenari Che vuol dire Che mi rappresenta sta roba È questo Ma non ci sto capendo una se Che è sta roba Che ci capisco Voglio vedere se c'è uno scenario Dove arriviamo quinti Facciamo così Qui c'è Se vincono gli atleta Se vincono gli atleta Se vincono gli atleta Se perdono gli atleta Contro i match Scossiamo ai playoff Dottori Oh questo c'è il quadro tie break Se li perdiamo entrambi Ah no fermi tutti C'è il tie Oddio Voglio il tie break ragazzi Sembra un tie break Sinceramente sta roba Questo sembra un tie break Però è smezzato il tie break Ragazzi qua Penso sia un tie break Per il terzo quarto posto E qua il tie break Per il Per il quinto Sesto Sembra una roba così Sinceramente Questo invece Non c'è la barra Quindi è un tie break Tie break generale Ok ok Quindi c'è una chance Dove noi non siamo Ai playoff Ok quindi dobbiamo vincere domani Ok 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 Domani entriamo in game E rompiamo il culo a counter Ma voi avete paura di counter Avete paura di Giacomo Manconi Avete paura di un AD Carry Che fa 300 average DPS L'ultima volta signori Hanno preso il cazzo Al minuto 18 Domani signori Abbiamo già vinto Solo il Moba Rog Potrebbe perdere domani E rischiare un tie break Di merda Domani signori Il game È astro Giga Mega Vinto Poi si entra ai playoff Rompiamo il culo Probabilmente a chi Non lo so Al terzo Timo al quarto Poi rompiamo il culo ai CGG Poi rompiamo il culo ai Masco Vinciamolo Split E poi andiamo a Leo Master Forse Andiamo a Leo